Questo è un video di denuncia Non hai parole Sono senza parole Potete notare Guardate in Toscana che si può trovare a Fassina Il fiume, il lago Pulitissimo Da mezz'ora il mare, le colline, le montagne Venite a Fassina Ma c'ha anche la portiera aperta Cosa? È di sicuro la schiena di un delitto, andiamo